Ciao, oggi vi mostro come realizzare il ciondolo Maya, questo qua che vi ho mostrato nello scorso video, invece insieme oggi andremo a realizzare questa versione, la differenza tra i due è che in questa versione ho creato questa sorta di onde nella parte finale che secondo me lo rendono ancora più carino e indosso è una meraviglia, poi vi dico che cosa ho modificato per fare queste ondine, inizio intanto con l'occorrente, un rivoli da 12 mm, le twin misura 2,5 x 5 mm, delle rocaille 15 0, scusatemi, delle delica 11 0, 32 swarovski da 2,5 mm, mentre in questo caso ho usato degli swarovski da 3 mm, ma secondo me stanno bene quelli da 2,5 perché con le twin rendono il lavoro un po' più rigido, un po' più solido, poi delle perle da 3 mm che ho utilizzato anche in questo caso, però utilizzando gli swarovski da 2,5 le perle da 3 mm mi creano queste ondine, appunto perché sono un pelino un po' più grandi, io adesso non so se esistono perle un po' più piccole, qualora voi non volete realizzare il ciondolo Maya con queste ondine, vi consiglio di cercare delle perle un po' più e niente, quindi adesso vi mostro appunto come realizzarlo con una sorta di servizio fotografico e appunti che vi ho scritto, parto già con il rivoli incastonato, molte di voi anzi penso tutte lo sanno già fare, quindi non sono stata lì a far vedere i vari passaggi anche perché poi su youtube si trovano vari tutorial in merito, quindi non voglio essere una delle tante che fa vedere, per cui parto già con il rivoli da 12 incastonato, io personalmente lo incastono con 32 delica di base, poi ci ho fatto due giri di rocay nella parte sopra creando questa sorta poi di stellina, adesso col crystal si vede ben poco e poi io ho anche chiuso bene il tutto con, anche nella parte dietro con due giri sempre di rocayle e poi questa decorazione specie stellina, niente ragazze, io adesso vi lascio alle foto, fatemi sapere se vi piace, se è tutto comprensibile e niente, insomma io ho creato questo ciondolo e ho voluto appunto condividerlo con voi e spero che questo vi fa piacere, niente vi mando un bacio e alla prossima, ciao, buona giornata! Grazie 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 Grazie